Ovviamente, per quanto riguarda la valorizzazione, noi intendiamo anche la parte, oltre ovviamente alla realtà museale, alla realtà delle mostre, anche la parte eventi. Sabato, questo 18 maggio, avremo appunto la notte dei musei, quindi le notte europee, la festa della musica, queste sono altre manifestazioni che ci aiutano con una media, diciamo, di afflusso dai 50 ai 100 mila, senza considerare ovviamente la festa di Roma, che è anche un'occasione per riportare comunque i cittadini romani e non a Roma, una valorizzazione di ciò che si vede, ma ciò che è anche all'interno. Quindi questo sistema integrator che è Z, ma appunto consente una regia abbastanza molto competente per certi versi, è una progettazione veramente specifica di aggiornarsi ai tempi appunto con la realtà virtuale, ma anche allo stesso tempo accogliere i cittadini fruitori attraverso degli eventi che riempiano, quindi il nostro scompito è quello di portare anche attraverso queste manifestazioni le persone all'interno dei luoghi da verificare, tale che è un po' questo il progetto anche diciamo dell'Aggiunta, quello di essere veramente come se tutti un museo a cielo aperto, quindi dentro e fuori senza alcuna differenza.